Ibrahimovic al Milan? La folle e particolare richiesta di Raiola e l'apertura rossonera L'attaccante svedese potrebbe tornare al Milan. Ecco le richieste di Raiola per rivedere Ibrahimovic al Milan. Raiola? Presto potremmo tornare a fare affari insieme. Massimiliano Mirabelli, dopo i problemi sorti con Raiola nel corso della trattativa per il rinnovo di Donnarumma, ha aperto le porte alla gente. I due potrebbero tornare a chiacchierare molto presto per un altro grande assistito della gente, vale a dire Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante è svincolato dopo il grave infortunio ma Mourinho vorrebbe riaverlo al Manchester United. Secondo la Repubblica Mino Raiola lo avrebbe offerto al Milan con una proposta molto intrigante. Il procuratore avrebbe chiesto un contratto a gettone a partire dal prossimo gennaio. Contratto da un solo milione di stipendio da gennaio a giugno, più un altro milione lordo, quindi 500 mila euro, a partita, per ogni presenza effettuata dal giocatore. Fassone nei giorni scorsi non ha chiuso le porte, grandi ritorni al Milan? Magari qualche vecchia conoscenza potrebbe rimettere piede a Milanello. E se fosse Ibra? Il contratto a gettone potrebbe stimolare l'attaccante ma anche i rossoneri. Grazie per la visione!